È pronto ad aprire le 26 suggestive location nel centro storico di Foligno, il festival nazionale dei primi piatti. Da giovedì a domenica, i primi d'Italia rimette sul tavolo le proprie proposte destinate al grande pubblico di degustatori appassionati e la città trasforma i suoi palazzi storici, i suoi chiostri, le sue piazze, le sue taverne per ospitare l'unico appuntamento italiano interamente dedicato ai primi piatti nazionali. Cuore dell'evento è l'eccellenza dei prodotti di qualità elaborati all'interno del circuito Villaggi del Gusto, 14 location dove assaggiare continuativamente proposte da 2,50 euro a 7,50 euro dedicate alle grande varietà e agli infiniti condimenti di questo piatto simbolo del Made in Italy. Per la prima volta anche un villaggio di gnocchi fatti a mano e tortellini ripieni con le buone e salutistiche proteine vegetali della canapa. Nei villaggi la maestria di 80 chef all'opera, dal pluristellato Mauro Liasi all'emergente Fabrizio Rivaroli, tutto insomma per offrire ai gourmet del festival oltre 200 nuove ricette. Innumerevoli e continuativi gli appuntamenti, cucina, corsi e percorsi per apprendere i segreti di una buona pasta, le cotture e i condimenti con le sezioni Università della Pasta, Master in primi piatti tenuti da grandi chef stellati, Food Experience 3.0 e Blog Talk, il festival dei primi d'Italia sempre più vicino al mondo digitale, proposti incontri giornalieri con alcuni tra i food blogger più apprezzati del web, che saranno anche chiamati a realizzare piatti d'eccezione sul grande palco per la sfida fresca di gusto, il ripieno che non ti aspetti. Non mancheranno appuntamenti dedicati alle comunità Instagramer, Facebook e Twitter, che con l'hashtag ufficiale i primi d'Italia potranno linkare e seguire il festival in ogni momento, scaricando l'app gratuita i primi d'Italia. Novità 2014, il 28 settembre domenica si corre la prima mezza maratona dei primi d'Italia, Corri a Mira e Degusta, una gara agonistica di 20 chilometri promossa da Athletic Winner, che offrirà tutti i giorni esibizione e prove tecniche di sport attivo. I primi d'Italia dunque vuole sempre più essere un festival adatto a tutti, con attività pensate per ogni età, per appassionati e per semplici curiosi, per gli intolleranti alimentare il villaggio gluten free, per i più piccoli i primi d'Italia junior, EduTime e tante attività di manipolazione ingredienti, per i palati più sopraffini le 6 mostre mercato e il circuito dei villaggi del gusto, per i foodnauti caccia al gusto, la prima caccia al tesoro interattiva e digitale.